Quando il sauce sale su, alto in cima al cielo blu, l'orologio fa, che nessuno dorme più, la pimpa scopperà, in campagna o in città, qualche nuova novità. Ma che è che il monaco? Il noiafasor. Non lo so ancora. Caccherò qualcosa nel baule. Posso caccare lì dentro? Ma certo! Cosa sarà? Cos'è? Oh, ti insegno come funziona. Andiamo fuori. Allora, si prende un tasso, si mette qui... Sei sempre tutto tu, vero? Sì. Oh, bella. Mi fai sempre fare la parte più noiosa dei giochi, tu. Ecco il torrente. Sei tu il suo papà? No, io sono Rocco, suo cugino. E suo papà dov'è? Io sono Rocco, suo cugino. Grazie, a dopo. È bianco come te. È lui. Ciao papà! Io sono Rocco, suo cugino. Che bei baffetti che hai. Grazie. È come grosso. Sai correre? No, ma so fare le capriole. Cuffa! Che corsa, ragazzi. Andiamo in casa a masturbarci. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao ciao. Ciao 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 ciao. Ciao 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 ciao. Grazie.